E' così, prima di passare al prossimo posto, vogliamo passare sui tre luni e vogliamo dare il tempo sulle mani, sulle mani, sulle mani, con il film di Sula! E' così, pronti per non sessare i campi di borsola! Come se si vede sempre, io mi sono qui, io mi sono qui, io mi sono qui! E' così, pronti per non sessare i campi di borsola, viva la salvezza! Diretamente dal mondo del mondo, un panduatore, un di sei, dice... Yeah! 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 Can't wait! Yeah! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.